Ormai mancano pochi giorni, quindi stiamo lavorando molto sull'esecuzione e sugli automatismi per raggiungere appunto quella perfezione che è necessaria nella squadra. Partiamo l'8 di settembre e il 12 e il 13 ci saranno le competizioni. Siamo molto cariche, ci stiamo facendo forza l'uno con l'altro, anche se stiamo a pochi giorni dalla partenza e quindi la stanchezza inizia a farsi sentire, ma siamo prontissime, quindi riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Sappiamo che ci sono delle squadre molto forti come la Russia, la Bielorussia e la Bulgaria, ma riusciremo anche questa volta a portare in alto il nome dell'Italia, almeno questo è quello che ci auguriamo per quest'anno. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutte le mie compagnie di squadra, le allenatrici e tutto lo staff tecnico e speriamo di portare l'Italia a grandi livelli e raggiungere i nostri obiettivi.